Ho fondato 9 anni fa l'associazione Il Chiostro, trasparenza e professionalità delle lobby, un'associazione che intende raccogliere i lobbysti italiani che si battono per regolamentare questa attività sulla base dei criteri, dei valori, della trasparenza e della correttezza verso le istituzioni. Il lobbyista ha il compito di stabilire una connessione e un dialogo corretto tra gli interessi, che sono prevalentemente privati, sia profit che non profit, e le istituzioni, cioè i decisori pubblici, cioè quelli che decidono il nome dell'interesse generale e del bene comune, come dir si voglia. Per questo è una professione che va attentamente valutata per le ricadute che può avere sulla vita democratica e logistica, serve ad aiutare le istituzioni a decidere meglio e quindi questa attività, che è un'attività in qualche modo privilegiata, cioè la possibilità di accedere alle istituzioni, non può essere un'attività che si svolga al di fuori di ciò che è il sale della democrazia, cioè la trasparenza dei processi decisionali. Si deve sapere chi è che fa il lobbyista, quali interessi rappresenta, quali attività svolge per conto di chi e con quali soggetti istituzionali si rapporta. Questa è la base essenziale della trasparenza dell'attività logistica, che deve svolgersi ovviamente nel rispetto non solo delle norme generali di funzionamento della nostra vita sociale e dello Stato, ma in relazione anche a norme specifiche che noi auspichiamo vengano inserite in una legislazione ad hoc. Io parlo sempre di un far west dell'attività di lobbying in Italia in cui è possibile tutto e il contrario di tutto. Qualche cosa che esiste se tanto molto sporadico, c'è qualche regione che ha cominciato a elaborare delle norme, la Toscana lo fece già nel 2001, ma si tratta di normativa assolutamente molto approssimativa, anche perché il dibattito sull'argomento non era sviluppato e non si aveva ancora una consapevolezza piena del problema, anche il Molise ha una legislazione, altre regioni ne stanno discutendo, ma quello che manca è una legislazione a livello nazionale, che noi chiediamo per l'insistenza da quasi appunto dieci anni e che stenta per il fuori perché ci sono molti interessi contrari alla trasparenza dell'attività di lobbying e quindi alla regolamentazione. Noi chiediamo che i lobbyisti debbano avere dei requisiti essenziali per potersi iscrivere a un registro obbligatorio, nel senso che chi non si iscrive in questo registro non può esercitare l'attività di lobbying, se lo fa deve essere sanzionato in maniera molto pesante dal punto di vista peculiario. L'insistenza del registro comporta una rendicontazione dell'attività di lobbying che deve avvenire annualmente, il lobbyista deve inviare all'autorità che deve vigilare, che secondo noi deve essere l'autorità nazionale anticorruzione, che deve vigilare sulla tenuta di questo registro, una relazione in cui scrive esattamente quello che lui ha fatto, cioè quali sono gli interessi rappresentati, quanti soldi ha speso e prevalentemente quali sono i vari fascicoli che ha seguito e le persone con cui si è interfacciato. Chiediamo anche che il parlamentare, o non solo il parlamentare, ma anche qualunque decisore pubblico, lasci traccia dei contatti che ha con i lobbisti e lasci evidenza dei documenti che ha ricevuto che dovrebbero essere di dominio pubblico.